La pista della droga non è stata mai abbandonata da coloro che indagano sull'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Ieri la notizia che un pentito, molto attendibile, come ha tenuto a sottolineare il procuratore della Repubblica di Salerno, Franco Roberti, ha dichiarato di conoscere il nome dell'autore materiale del delitto avvenuto il 5 settembre del 2010. Sono certo di aver sentito dire che ad uccidere Vassallo sia stato il brasiliano. Così il pentito di camorra ai magistrati inquirenti. Il brasiliano al secolo Bruno Umberto Damiani fu attenzionato sin dalle prime ore dagli inquirenti per un suo coinvolgimento nello spaccio di droga lungo la costa del comune cilentano. Allora però non furono trovati gravi indizi che potessero far scattare una misura cautelare. E dopo la bufera di quei giorni di settembre, quello che oggi viene indicato come il presunto assassino del sindaco pescatore, ha fatto perdere le sue tracce riparando in Sud America. La droga, il motivo ricorrente in una inchiesta apparsa difficile sin dai primi momenti. La droga che secondo Angelo Vassallo stava mettendo a rischio l'afflusso di turisti e vacanzieri nella splendida Aceroli. Lunghi anni di lavoro per realizzare l'isola felice nel cuore della costa cilentana, che stavano andando alla malora per la presenza soprattutto nei giorni della Movida di venditori di morte nella zona del porticciolo turistico. Proprio lì, pochi giorni prima di essere ucciso, Vassallo avrebbe affrontato alcuni spacciatori. Ed ora la procura di Salerno, che da oltre due anni conduce le indagini, torna su quella pista sperando che al più presto possa essere fatta chiarezza sia sui mandanti sia sull'esecutore materiale di quel barbaro delitto in una calda notte di settembre.